Eccoci qua, buonasera. Cosa era successo? Non lo sapremo mai. Allora, il giornale partirà questa sera con la notizia che anche alla Camera dei Deputati, e speriamo la stessa notizia arrivi dal Senato, si farà come nel resto del Paese, visto che lì si lavora e si dovrebbe lavorare, chi entra deve esibire il Green Pass, vale per tutti i lavoratori, visitatori, commessi, dipendenti, funzionari, esperti, ma anche per gli eletti, per i deputati, per il Premier e i Ministri, che devono entrare alla Camera per riferire nell'emiciclo di Montecitorio. Voi direte, grazie tante. No, la cosa era in discussione perché formalmente la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, ma anche la Corte Costituzionale sono organi la cui sede soggiace in realtà all'auto di Chia, cioè alla possibilità di decidere comunque al di là di quelle che sono le leggi che riguardano tutti gli altri, e l'ho messa così per essere chiaro. E comunque il Presidente della Camera Fico ha detto, dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza, da noi si fa come in tutti gli altri luoghi di lavoro. E c'è qualcuno però che non è d'accordo, proprio perché la Camera deve rappresentare tutti, anche i Novavax, anche chi ancora non si è vaccinato e non vuole soggiacere alla logica dei tamponi ogni 72 ore. È una polemica che risentiremo in seguito. Ma intanto, proprio sul Green Pass, oggi c'era il voto alla Camera, il voto finale, ebbene praticamente metà 51 su 129, se non sbaglio, dei deputati leghisti non erano presenti. E questo ovviamente ha provocato nuove prese di posizioni politiche, anche se Salvini ha cercato di sdrammatizzare, dicendo siamo un partito libero, ci sono posizioni differenti, poi quello che conta tra le righe è chi c'era, chi ha votato e come. Ma come vedremo, le questioni riguardano anche le decisioni da prendere e dalla conferenza delle Regioni arriva la richiesta che dall'inizio di ottobre si possa riempire all'80% cinema, teatri, palazzetti, per estensione immagino anche gli stadi per gli incontri di calcio o per le altre attività sportive o anche canore. Ebbene, evidentemente la richiesta viene analizzata, ma si è sempre detto e viene confermato da parte del Governo che bisogna attendere le due settimane dall'inizio delle scuole per vedere se c'è per effetto della ripresa delle attività scolastiche una nuova fiammata. Se non ci sarà sicuramente quell'estensione della capienza sarà accordata. Vedremo anche che domani il Governo valerà un altro decreto che riguarda, tutti noi possiamo dire, perché riguarda le famose bollette della luce e del gas e metterà i cittadini, i consumatori al riparo dal rischio di quei superaumenti, di quella stangata di cui si è parlato nei giorni scorsi. C'è tutto questo, ma c'è anche una serie importante di incontri diplomatici in politica estera nel telegiornale che avrà anche però la notizia dell'arresto dello zio di Saman, la ragazza scomparsa. Lui è proprio l'uomo che è accusato di averla portata nel bosco, di averle tolto la vita e di averne seppellito il corpo. Ma chiuderemo con l'epilogo, il lieto fine della vicenda famosa che in qualche modo ha attratto tutta l'Italia del gratta e vinci, vinto e rubato. 30 secondi i titoli. Il Green Pass sarà obbligatorio anche alla Camera. Dal 15 ottobre i deputati, i ministri, il Presidente del Consiglio dovranno esibirlo per poter entrare a Montecitorio. Non tutti i parlamentari l'hanno presa bene, qualcuno ha invocato l'auto di chi? È la facoltà di alcuni organi costituzionali di poter decidere in dergua in modo autonomo? Ma Fico è stato più che esplicito. Ciò che vale per i cittadini deve valere per i deputati. Nessun trattamento privilegiato. Si va verso l'aumento a partire di ottobre della capienza fino all'80% per i teatri, cinema, i palazzetti, lo sport e gli stadi. Oggi la Conferenza delle Regioni ha chiesto al Governo di rivedere i limiti a partecipazione del pubblico a eventi sportivi e culturali. L'aumento è favorito dalla campagna vaccinale e dalla diffusione del Green Pass. Lo sci ha già previsto un protocollo per la stagione invernale che prevede Green Pass 80% di capienza nelle funivie e negli impianti. Avete visto prima nel titolo che poi c'è un po' di polemica perché oggi alla Camera sul voto finale sul Green Pass la Lega per metà era assente. Ci torneremo. Ma intanto per quanto riguarda i provvedimenti attesi per domani ci sarà sicuramente quello che eviterà la stangata per i contribuenti, per i consumatori sulle prossime bollette della luce del gas. Si sa che c'è un aumento forte dei prezzi della produzione ma il Governo domani vara il decreto. Arrestato a Parigi lo zio di Saman Abbas, la diciottenne di origine pakistana che si era ribellata a un matrimonio forzato ed era scomparsa da Novellara la sera del 30 aprile. Sarebbe, secondo le accuse, l'autore, la mente del delitto contro di lui l'accusa del fratello di lei e anche un video che lo riprende con una pala in mano mentre assieme ai due cugini Saman si apprestava a scavare la buca per seppellire il corpo della ragazza mai ritrovato. Lieto fine per la storia del Grattevinci di cui l'Italia ha parlato per settimane, lo ricorderete, il tabaccaio poi arrestato due giorni dopo la fuga che sottrasse con l'inganno a una signora definita anziana, ma che anziana non era quel biglietto da 500 mila euro. È stato recuperato e vedremo come la legittima proprietaria tornerà in possesso, non del tagliando ma della vincita. Allora, allora eccoci, buonasera, vediamo subito intanto che si evita l'effetto casta almeno per quanto riguarda la Camera dei Deputati, infatti la Presidenza, l'Ufficio di Presidenza ha deciso che anche lì, anche a Montecitorio, ci vuole il Green Pass. L'Ufficio di Presidenza della Camera ha dato all'unanimità il suo via libera. Dal 15 ottobre per entrare a Montecitorio per dipendenti, commessi deputati, ministri e Presidente del Consiglio sarà necessario il Green Pass. Del resto il Presidente Fico è stato più che chiaro. Da quando sono stato eletto Presidente della Camera per me vale un solo principio, quello che vale per i cittadini fuori vale per i deputati dentro. Tutti d'accordo? Non proprio qualcuno si è appellato alla cosiddetta autodichia, la facoltà di cui godono alcuni organi costituzionali di decidere in deroga e in modo autonomo. Altri, noi con l'Italia di Maurizio Lupi, tanto per dire, hanno puntato a precisare. Va bene essere come tutti gli altri cittadini, ma quando siamo in aula diventiamo i rappresentanti del popolo italiano e abbiamo il dovere di rappresentare ogni posizione, compresa dunque quella dei no Green Pass. Posizione scomoda, perché dal mondo della politica oggi sono arrivate quasi esclusivamente parole di sostegno a Fico. Dal suo compagno di partito, Davide Crippa, che dice che le regole devono essere uguali per tutti, la politica dia il buon esempio. al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, per il quale il taglio dello stipendio per i parlamentari senza Green Pass sarebbe più che comprensibile. Ma quanti sono quei parlamentari che rischiano di vedersi decurtata la propria busta paga? Secondo fonti bene informate, i non vaccinati sono circa il 10% del totale, 90, una sessantina a Montecitorio e una trentina a Palazzo Madama. Silenzio sui nomi, naturalmente, ma tra i sospettati spiccano Cinque Stelle e Centrodestra e qualche ribelle spunterebbe persino nel Partito Democratico. C'è sempre la strada del tampone per chi testardamente vuole evitare la vaccinazione, ma la figuraccia in questo caso è sempre dietro l'angolo. La Camera oggi ha deciso per i suoi 630 parlamentari, il Senato riunirà l'ufficio di Presidenza il 5 di ottobre per decidere il da farsi, per i suoi 315 senatori. Nel frattempo, ognuno stamattina ha potuto toccare con mano cosa potrebbe accadere senza il Green Pass. Al Consiglio regionale del Lazio, il consigliere ex Cinque Stelle Barillari, Novax convinto, è stato bloccato e accompagnato fuori. Su Twitter si era appena vantato, ad oggi sono l'unico consigliere non vaccinato ad essere entrato in aula senza aver mai fatto nemmeno un tampone. Vedremo cosa succederà, ma intanto si procede a passo di carica, il caso di dire con i voti di fiducia, abbiamo già parlato ieri sera, sia alla Camera sia al Senato per tutti quei provvedimenti che devono essere varati in tempo utile per soddisfare quello che è appunto la roadmap che si è dato il Governo, ma soprattutto che ci ha assegnato l'Europa, perché coincide con le tranche dei versamenti dei fondi del PNRR. Allora, vediamo com'è andata, sapendo che nel servizio sentiremo anche appunto come nel voto alla Camera di questa mattina, che era quello sul Green Pass, si è trovato che i leghisti hanno votato tutti a favore, ma quei leghisti che erano presenti erano il 52% del gruppo parlamentare. Cinque fiducia in tre giorni, Camera e Senato impegnate in un tour de force, partito ieri con il voto sul Green Pass bis a Montecitorio sulla riforma della giustizia civile a Palazzo Madama, dove oggi si è votata la doppia fiducia sul processo penale e domani toccherà il decreto che estende il Green Pass a scuole e trasporti. Fritta dettata dalla necessità di convertire in tempi brevi le nuove norme, far passare subito le riforme della giustizia, chieste dall'Europa per accedere ai fondi dei recovery plan ed evitare che la pausa elettorale prima e la sessione di bilancio poi blocchino i lavori del Parlamento. Tra gli strali dell'opposizione Meloni in testa che parla di Costituzione calpestata, blindature che non riescono però a nascondere i distinguo nell'ampia maggioranza. Alla Camera oggi nel voto finale sul certificato verde mancano i voti di 51 leghisti, quasi la metà del gruppo, segno che i mal di pancia non sono archiviati. Se i governatori del Nord, cui ha dato voce il ministro Giorgetti, hanno indicato la rotta, cioè il via libera all'estensione a tutto il mondo del lavoro, Salvini, finora portavoce di dubbi e frenate, non sconfesse i dissidenti. I parlamentari sono liberi di esserci o non esserci, quindi non sta a me commentare, ognuno agisce e vota con coscienza. Fortunatamente siamo in democrazia, non siamo ancora in un regime. Dopo l'addio dell'euro parlamentare donato, Salvini presenta gli arrivi di due consiglieri regionali, Lombardi, da Forza Italia, mossa che fa infuriare l'alleato, inconcepibile a pochi giorni dalle amministrative, dicono gli azzurri. Al Senato, invece, è la riforma del processo penale, sul percorso della quale sono pesati i malumori dei Cinque Stelle, in difficoltà per il superamento della riforma a buona fede, a tenere banco. Con gli ex grillini, ora in alternativa c'è, che protestano in aula. Eppure a catalizzare l'attenzione dell'emiciclo non sono i contorcimenti dei Cinque Stelle che provano a guardare il bicchiere mezzo pieno e rivendicano le modifiche ottenute dallo stop alla prescrizione, che rimane per i reati di mafia e terrorismo, all'entrata in vigore graduale della legge. Ma è già accusi di Renzi alla magistratura. Voterò sia la riforma a Cartabia, spiega, ma è solo un primo passo. Valida perché contiene il superamento della riforma a grillina sullo stop alla prescrizione e l'abbordata agli alleati. L'istantanea di Renzi è quella di una magistratura in crisi, legittimata in questi anni dalla debolezza politica, arrivata però alla resa dei conti, con gli unici due sopravvissuti del pool di mani pulite impegnati a querelarsi tra loro. Sono partite nelle dinamiche interne alla magistratura tensioni, forse mai sopite in passato, che sono esplose in una guerra oggettiva. La vera separazione della carriera è da fare tra la corrente e il magistrato. Tu devi far carriera se sei bravo, non sei iscritto a una corrente. Non voglio assolutamente sindacare sul coraggio che si autoattribuisce, dichiarandosi l'unico uomo della galassia ad avere il coraggio di parlare di magistrati e magistratura, ma temo che abbia confuso l'ordine del giorno, perché oggi parliamo della riforma del processo penale, non della riforma sull'ordinamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutto questo accade in Parlamento, mentre c'è attesa per quello che può succedere domani in Consiglio dei Ministri, dove sarà con ogni probabilità, anzi, pressoché certamente votato un nuovo decreto che riuscirà a scongiurare, questo è l'intento, perlomeno la stangata sulle bollette della luce del gas. Mentre praticamente da questa mattina conosciamo il testo definitivo del decreto, quello di cui tanto si è parlato, sul Green Pass dei lavoratori. Si scopre qualcosa di più. La differenza è soprattutto formale, ma la sostanza non cambia. Chi si presenterà al lavoro, nel pubblico e nel privato, senza certificazione verde, sarà considerato assente, senza una valida motivazione e non percepirà lo stipendio fino a quando non si metterà in regola. Nel testo del decreto legge definitivo, però, è stata introdotta una modifica. Non è, cioè, più prevista la sospensione, a meno che non si lavori in un'impresa con meno di 15 dipendenti. In pratica significa che non sarà necessario alcun passaggio formale. Il dipendente, cioè, non riceverà una ufficiale comunicazione di sospensione, sarà invece considerato assente, senza alcuna giustificazione. Tutti gli obblighi del rapporto di lavoro resteranno in vigore. Il lavoratore non sarà però sanzionato in alcun modo, a meno che non presenti una certificazione falsa. La modifica è stata introdotta per superare le resistenze dei sindacati, ma anche per evitare possibili contenziosi legali. Per ora, i dati delle vaccinazioni sembrano confermare l'obiettivo voluto dal governo, grazie al Green Pass allargato. Un aumento sensibile di prime dosi e una copertura nazionale arrivata ora al 76%. E proprio per questo la Conferenza delle Regioni, oggi pomeriggio, ha presentato all'esecutivo la richiesta di rimodulare i limiti alla partecipazione del pubblico a tutti gli spettacoli. Nei cinema, nei teatri, durante i concerti, ma anche allo stadio. Il presidente della conferenza, Massimiliano Fedriga, ha chiesto che dall'attuale 50% di capienza si passi all'80% a partire da ottobre. Un passo possibile, spiega, proprio per il successo della campagna vaccinale con la diffusione delle certificazioni verdi. Da parte sua, il governo ha già fatto trapelare la necessità di aspettare le possibili conseguenze sulla curva pandemica della riapertura delle scuole, visibile solo a partire da due settimane dopo la prima campanella. Probabile, dunque, che il parere degli esperti si possa avere già venerdì prossimo durante il consueto monitoraggio settimanale. Ma intanto, in previsione della prossima stagione invernale, è stato firmato un protocollo da parte di tutte le categorie interessate, che stabilisce l'obbligo di Green Pass per accedere agli impianti di risalita nelle località sciistiche. Prevede capienza limitata all'80% negli impianti al chiuso, percorsi per garantire il distanziamento personale che regoli i flussi, obbligo di mascherina negli spazi comuni e sugli impianti di risalita. Questo è quello che succede riguardo a Green Pass e dintorni. Ma come si diceva, c'è un'altra partita che si apre, perché da qualche giorno, dall'allarme, dal grido allarme o dal preannuncio che è arrivato dal Ministro Cingolani, sappiamo che i prezzi, le tariffe della luce e del gas potrebbero avere delle impennate. Si è parlato giustamente di stangata, visto che si parla di rischio addirittura del più 40%. Domattina il Governo dovrebbe varare il provvedimento che lascia più o meno immutato. Questa è la speranza, questo è il preannuncio, ma non sappiamo se sarà davvero così. Comunque, un provvedimento che dovrebbe calmirare e di molto i rischi di questi superaumenti. Si sa da molti giorni che c'è un impegno, ovviamente non potrebbe fare nessuno diversamente a due settimane da elezioni importanti, dal turno delle elezioni, come sappiamo, per i grandi comuni e anche per la Regione Calabria, di dire no, non mi interessa. Ovviamente tutti hanno detto che è un impegno di tutti riuscire a dare una possibilità ai cittadini di non dover pagare questo superaumento. Vediamo se il pezzo è pronto, perché se non è pronto... Tra pochi secondi, quindi, c'è questo servizio, domani mattina il Consiglio dei Ministri e tra l'altro c'è anche il rifinanziamento del fondo per quelli tra i lavoratori che devono restare in quarantena a casa. Eccolo qui. Il Preconsiglio è in corso da un'ora circa, poi domani a Palazzo Chigi il Governo dovrebbe varare il provvedimento con le misure per evitare il rincaro delle bollette di luce e gas. In ballo ci sono tra i 3 e i 4 miliardi da usare per tagliare gli onieri di sistema e derogare gli extra bonus destinati alle famiglie in maggiore difficoltà, quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza o che hanno uno o più membri che versano in condizioni di salute gravi e che necessitano di macchinari alimentati con energia elettrica. Il taglio dell'IVA, ipotizzato inizialmente, invece, sarebbe stato scartato. Ma sono solo indiscrezioni. Gli incentivi alle fonti rinnovabili e i costi per lo smantellamento degli impianti nucleari sono le voci che assorbono i maggiori oneri. Si prospetta un rincaro fino a 500 euro annui. L'80% colpa del prezzo del gas salito in tutto il mondo, con l'aumento della domanda generalizzato. Ma del resto, in questo senso, l'Italia è totalmente dipendente dalle importazioni. A parte l'intervento urgente atteso dal Consiglio dei Ministri di domani, l'esecutivo lavora anche ad un decreto che, con misure più strutturali, metta mano al metodo di calcolo delle bollette. Già per ridurre gli aumenti del secondo trimestre, in estate, si utilizzarono quasi 700 milioni provenienti dalle aste di anidride carbonica, cioè le quote di inquinamento che le aziende europee comprano sul mercato. Stavolta però quei proventi sono già impegnati per altre voci nei bilanci del Ministero della Transizione Ecologica e di quello dell'Economia. Anche i fondi stanziati per l'emergenza Covid sarebbero teoricamente disponibili, ma in questo caso, col monitoraggio dell'Unione Europea, andrebbero trovati gli spiragli giusti per non compromettere l'andamento dei progetti inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato a Bruxelles. Resta il fatto che il problema dell'approvvigionamento energetico è un tema centrale per l'intera Europa, da qui il piano della Commissione per arrivare al 70% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, l'unica chance possibile per sganciarci dalle forniture di altri paesi. Prima di andare alle notizie di Cronaca, concentriamoci su quella che in questi giorni è la capitale del mondo, New York, dove c'è il famoso Palazzo di Vetro, come oltre lo si chiamava, il Palazzo della Sede delle Nazioni Unite. Lì c'è l'Assemblea Generale, come succede a fine settembre ogni anno. E a latere di questa Assemblea ci sono incontri diplomatici importanti. E si parla di Afghanistan, della vicenda dei sottomarini nucleari scippati alla Francia nella loro produzione, doveva andare verso l'Australia, il gelo con gli Stati Uniti, ma c'è anche dell'altro. L'era della diplomazia implacabile l'aveva chiamata ieri dal podio dell'Assemblea Generale Joe Biden ed oggi sembra che i leader mondiali abbiano cominciato a praticarla proprio nei corridoi e nelle stanze del Palazzo di Vetro. Due le riunioni chiave, quella dei ministri degli esteri del G20 sull'Afghanistan per organizzare il vertice di Roma a fine ottobre, per il quale il Presidente del Consiglio Mario Draghi si sta spendendo in prima persona, oggi con la seconda chiamata in poche settimane a Vladimir Putin. Per Draghi è fondamentale che i paesi che hanno un forte ascendente sui talebani partecipino dunque su tutti Cina e Russia. Dal Crembrino la riserva non è stata ancora sciolta, ma secondo il portavoce di Putin Dimitri Peskov, tra il premier italiano e il Presidente russo esiste una certa identità di vedute sui temi cardine come promuovere il dialogo inter-afghano, i diritti umani, evitare una crisi umanitaria e lavorare alla ricostruzione. Altro vertice all'atere dell'Assemblea Generale è quello sul Covid fortemente voluto dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti acquisteranno un altro mezzo miliardo di dosi di Pfizer da donare ai paesi a basso e medio reddito di tutto il mondo, ha annunciato Joe Biden, che ha anche promosso uno stanziamento di 350 milioni di dollari per facilitare la distribuzione. Ci sono stati 4 milioni e mezzo di morti, ha ricordato il Presidente americano, dobbiamo fare di più. Biden, dopo una telefonata domenica scorsa, respinta al mittente, ha sentito al telefono anche a Macron per cercare di appianare la crisi con la Francia e in parte con l'Europa legata all'affaire sottomarini. Le due parti hanno convenuto su di un principio generale. L'annuncio del pato di difesa tra Stati Uniti, Gran Bretagna ed Australia avrebbe beneficiato di consultazioni aperte tra alleati. Più o meno la stessa accusa che l'Europa muove agli Stati Uniti sui tempi e di modi dell'uscita dall'Afghanistan. La controversia per la commessa scippata alla Francia non è quindi ancora risolta. Per superarla i due leader si vedranno in ottobre in Europa. Per ora si è nato un abbozzo di distensione con l'ambasciatore di Parigi che tornerà a prendere il proprio posto a Washington. E come detto vediamo i fatti di cronaca di cui il più importante è l'arresto a Parigi di quello zio di Saman, la ragazza pakistana di Novellara, provincia di Reggio Emilia scomparsa di cui si teme con molti indizi a questo riguardo che sia stata uccisa e seppellita nei boschi attorno alla casa in cui viveva con la famiglia. Quello zio è accusato peraltro da altri familiari di essere l'autore materiale del delitto. Come in certi gialli, Danish Asnahin, lo zio di Saman, si era fatto crescere i baffi e il pizzo per camuffarsi. Non aveva con sé i documenti. Lo hanno identificato da un neo e poi ovviamente dalle impronte digitali. E lui, l'uomo accusato dell'omicidio della ragazza scomparsa nella bassa reggiana la sera del 30 aprile. Un delitto deciso perché, secondo i magistrati, Saman non accettava le regole della tradizione. non voleva sposare l'uomo prescelto dalla famiglia, molto più grande di lei e dei suoi 18 anni. Danish Asnahin, secondo l'inchiesta, è l'esecutore materiale, ripreso con una palla in mano insieme a due cugini di Saman il 29 aprile. Danish oggi stava in un appartamento di Rue de Bastion, in un soborgo di Parigi, Gorge Legoness, bandier multietnica, quella delle rivolte degli anni 90 con i palazzoni e le mucche che pascolano nei parchi. Nella letteratura noir, un uomo braccato dalla polizia di mezza Europa sarebbe stato più accorto di Danish Asnahin perché ci si può far crescere i baffi e cambiare l'acconciatura, ma se poi si chatta sui social, prima o poi si finisce dentro. Per Asnahin, per adesso, in una cella francese, tempo di completare le formalità burocratiche. Sette, massimo dieci giorni, secondo la procura, l'uomo arriverà in un carcere italiano. Il pubblico ministero lo aspetta per l'interrogatorio. I magistrati pensano anche di metterlo a confronto con Icram Ijaz, il cugino che avrebbe collaborato al delitto, arrestato a Nîmes su un pullman qualche mese fa. Ijaz finora ha respinto le accuse e dice che era andato in Francia per questioni di lavoro. L'inchiesta finora è stata difficile. Il corpo di Saman, cercato per mesi nella campagna di Novellara, fra le serre e i campi di cocomeri dell'azienda agricola in cui lavoravano i genitori, non si trova. Sparito, forse fatto a pezzi, una parte potrebbe essere stata portata più a nord, sul Po. Madre, padre, ragazza, anche loro, accusati del delitto, sono scappati in Pakistan. Un altro cugino non si sa dove sia finito. L'unico che ha parlato con i pubblici ministeri è stato il fratello minore di Saman. Ha svelato il ragazzo. Da sera prima che lei morisse, ci fu una riunione di famiglia per decidere come far sparire il corpo. Se ne è parlato con i vari accenti tra l'indignato e lo scansonato dell'episodio. Di quell'episodio è accaduto praticamente un mese fa a Napoli. Una signora definita come anziana, poi si è scoperto che ha meno di 70 anni, che nella ricevitoria prende un gratta e vinci e scopre, immaginate, con quale emozione di aver vinto 500 mila euro. Va a far verificare e il tabaccaio che cosa fa? Prende il tagliando e scappa. Se ne è parlato, ripeto, tantissimo. Ma questa sera vi parliamo in maniera documentata del lieto fine. Eccolo il biglietto di cui tutta Italia ha parlato per settimane. Vale mezzo milione ed è tornato proprio poco fa in mani sicure, dopo aver alimentato battute, vignette, fantasie e innumerevoli articoli su quella donna anziana, che poi anziana non è, e quel tabaccaio preso dal raptus predatorio più indifendibile. La storia finisce come è iniziata, perché finalmente lunedì prossimo la legittima proprietaria del gratta e vinci rubato troverà sul conto corrente in banca i suoi 500 mila euro e rientrerà in possesso anche del biglietto da 5 euro che il 57enne Gaetano Scutellaro le portò via col trucco nel rione Mater Dei di Napoli il 3 settembre, per essere poi arrestato due giorni dopo per furto pluriaggravato e tentata estorsione, mentre tentava di scappare alle Canarie. Da stasera il gratta e vince in una cassaforte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, a Trastevere. Nel pomeriggio il direttore generale Marcello Minenna lo ha fatto recuperare dal dirigente dell'ufficio giochi numerici e lotterie in una caserma dei Carabinieri di Latina, perché era in una filiale di banca intesa di quella città che, assecondando la sua vena folle, Scutellaro lo aveva depositato. Lotterie nazionali, il concessionario che per conto dell'Agenzia gestisce le lotterie istantanee come i gratta e vinci, ha ricevuto una mail che, disponendo la restituzione del tagliando in analisi a favore della persona offesa, incaricava lotterie nazionali di avviare le procedure di annullamento del già presentato reclamo, nel senso di pretesa del premio inerente il biglietto lotterie istantanea nuovo doppia sfida. Dopodomani un'apposita commissione si riunirà, biglietto sul tavolo, lenti di ingrandimento in mano, per verificare che sia originale, integro e valido. Poi verrà redatto e firmato un verbale di validazione e partirà immediatamente il bonifico per la signora, che intanto Bailam è riuscita almeno finora a proteggere l'anonimato. Ha tenuto riservate anche le considerazioni che sicuramente avrà fatto dopo aver ascoltato il tabaccaio intervistato da iNews24 prima di finire in carcere. Non sapevo che era una cifra del genere, credevo che erano 500 euro. Ho una casa a Latina, praticamente sono fuggito là perché mi sentivo il posto più tranquillo e qui potevo stare. Dopo aver depositato il biglietto, ho fatto, ho fatto, mi sono tolto il peso del biglietto perché è un biglietto, dove l'ho messo io questo biglietto. Ho fatto praticamente un biglietto online per Tenerife. Accade spesso che i vincitori di piccole e grandi somme donino del denaro alle ricevitorie. Tanto o poco non è dato saperlo, dipende dalle circostanze, sono gesti di riconoscenza che visti dal di fuori appaiono scontati, ma nel caso specifico sentiamo di poter escludere l'eventualità. Scansati Arsenio Lupin. Allora, andiamo a vedere un'altra notizia, l'ultima, perché fa notizia, non avrebbe fatto notizia fino all'anno scorso, però la Juventus ha ottenuto poco fa la prima vittoria in campionato, battuto con qualche fatica alla Spezia, la squadra dello Spezia, per 3 a 2. Dopo di noi, a 8 e mezzo, gli ospiti di Lili Gruber sono Paolo Mieli, Giuseppe La Terza, Ilaria Capua e Gabriele Albertini. Ci fermiamo. Tutte in positivo le borse, tra l'altro la Federal Reserve americana oggi ha fatto sentire la sua voce, non c'è ancora un alleggerimento delle misure di stimolo, che avverrà però verosimilmente all'inizio dell'anno prossimo. E comunque, a Milano, vedete, più 1,44, l'ultimo indice Futsi-Mibbing, invece in questo momento a Wall Street si veleggia sulle stesse misure, più 1,35% il Dow Jones, più 1,21 il Nasdaq. È tutto Gruber, ci vediamo domani sera, buonasera.